Esame di maturità superato a pieni voti dal Matera, uno stop che fa invece male al Casarano dopo 13 risultati utili consecutivi in campionato. Finisce 3-1 per i Lucani la sfida del girone H di Serie D, disputatasi al Franco Salerno 21 settembre e su un campo di gioco ai limiti della praticabilità. Formazioni, panarelli per i locali, si schiera col 3-5-2, risponde la terza col 4-2-3-1. Campo di gioco che penalizza la tecnica ma non la concretezza. Al quarto Matera in vantaggio alla prima occasione utile. Pucci si oppone bene sul primo tiro di russo ma sul successivo tap-in di Infantino nulla può, 1-0. Rosso-Azzurri che però reagiscono immediatamente, all'undicesimo arriva il pareggio, ci pensa Cerutti. Rimessa laterale dalla sinistra, difesa Lucana che allontana ma poi al volo e di giustezza il centrocampista numero 5 non perdona, 1-1 tutto da rifare. Al ventunesimo nuovo sorpasso, parabola di Infantino che in area scavalca Pucci, forse la palla sorpassa la linea di porta e l'arbitro lascia proseguire. Poco male perché Ferrara un attimo dopo va in acropazia e la rete si gonfia. Il 2-1 si concretizza a tutti gli effetti. Al ventisettesimo casaranno in dieci, costa cara proprio a Cerutti un'entrata fallosa su Ferrara. Cartellino rosso ed espulsione. Al quarantaduesimo il Tris del Matera al termine di un'efficace ripartenza che vede in Ferrara il principale protagonista, progressione in area ed assisto finale vincente per Infantino. Doppietta personale, settimo centro, tocco sotto misura e 3-1. Nella ripresa meno occasioni. Il casaranno getta nella mischia Rajkovic e Corvino ma non trova la quadra sperata. Al cinquantaseiesimo bel dialogo proprio tra Perez e Rajkovic, tentativo impreciso. All'ottantunesimo c'è anche un diagonale di Corvino ma è telefonato. Al novantesimo Matera ad un passo dal 4-1 con Isaac Prado diagonale al lato di Poco. Finisce così, Matera e Casaranno hanno gli stessi punti, ossia 27.